Un lavoro di squadra innanzitutto, perché da soli si arriva a pochi risultati, quindi sono contento anche per tutto quello che ci sta dietro. Come sta andando la serata? Con chi è al tavolo? Sono al tavolo con il professor Cintioli, che è un grandissimo personaggio, una grandissima autorità nel campo del diritto amministrativo e quindi è una serata piacevolissima. Quanto è importante un riconoscimento in questa categoria? Penso che comunque sia un segno per il lavoro che si è fatto e anche un auspicio per il futuro.